Manca poco alla ricorrenza dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna che si celebra ogni anno per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne negli ultimi decenni. Sono diverse le iniziative che vengono organizzate sul territorio e che spesso coinvolgono anche le scuole per sensibilizzare sempre più le giovani generazioni sul ruolo della donna e sull'importanza che esso ricopre all'interno della società. La ricorrenza è anche l'occasione per avviare profonde riflessioni sull'argomento e per ripercorrere le conquiste delle donne in tutti gli ambiti, dal lavoro alla politica e non solo. In occasione della ricorrenza anche quest'anno un interessante momento di riflessione è previsto per i ragazzi dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. In particolare si terrà un evento dal titolo Lotto tutto l'anno, il mondo delle donne e dunque questo è il tema che caratterizza l'incontro organizzato dall'Istituto Cicerone e coordinato dalla referente di educazione civica, la professoressa Emilia Rossi. Un appuntamento importante promosso anche quest'anno in occasione della giornata internazionale della donna dall'Istituto Cicerone che vuole offrire il proprio contributo al valore insostituibile della figura femminile in tutti gli ambiti. L'interessante incontro con la partecipazione di numerosi ospiti si terrà mercoledì 8 marzo presso l'Aula Magna del Plesso Itis Ipsia a partire dalle 10.30 e sarà rivolto agli studenti di varie classi del Cicerone. Il convegno si aprirà con i saluti della dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Vairo, mentre a chiudere i lavori con il suo intervento e i saluti sarà la professoressa Emilia Rossi. A moderare l'incontro sarà invece la professoressa e giornalista Antonella Morena.